Tragedia questa mattina nei monti sopra Domaso in frazione Gaggio. Da quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 68 anni di Vercana è morto folgorato in seguito ad una scarica elettrica che l'avrebbe colpito mentre stava lavorando. Ferito con ustione di una gamba l'amico che era con lui 28enne di Geralario trasportato in ospedale a Gravedona in codice giallo. Sul posto in un punto particolarmente impervio raggiungibile soltanto a piedi i vigili del fuoco di Dongo, i carabinieri della compagnia di menaggio e il soccorso alpino oltre al 118. In volo si è alzato anche l'elisoccorso. L'incidente alle 11.20 di questa mattina. In serata erano ancora in corso gli accertamenti per cercare di capire da dove sia partita la scarica. Sembra che i due stessero facendo dei lavori ad un muretto di terrazzamento per le vigne.